Ciao a tutti, tre segreti per ottenere l'amore e l'impegno di cui sei degno. In questo video voglio spiegarti tre segreti per ottenere l'amore e l'impegno di cui sei degno. Prima di affrontare il tema però iscritto al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting e con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema, tre segreti per ottenere l'amore e l'impegno di cui sei degno. Allora, in questo video imparerai come ottenere l'amore e l'impegno di cui sei degno. Devi tenere presente che dipende soltanto da te, questa è una cosa fondamentale. Devi sapere esattamente quello che vuoi e sembra difficile ma è tutto sommato abbastanza facile. Devi sapere semplicemente quello che vuoi e una volta che hai capito quello che vuoi, non è molto complicato, devi semplicemente lasciare andare tutte le cose che non sono importanti per te. Devi semplicemente lasciare andare tutte le cose che non hanno, diciamo, non hanno, come possiamo dire, che non ti portano benessere, che non ti portano stima, che non ti portano considerazione. E tu devi imparare, per prima cosa, a saper gestire la tua vita, a saper gestire, a non essere bisognosa, a saper gestire anche la tua solitudine, a stare con una persona non per bisogno, non perché pensi, ah, eh, uh, se non trovo questo non troverò nessun altro. Assolutamente no. Se non ne trovi quello, ne troverai un altro di meglio. È l'accanimento, come dico in tanti video, la cosa peggiore, la cosa peggiore che può capitare a una persona è veramente l'accanimento. Più ti accanisci è veramente l'accanimento, il fatto di volere a tutti i costi una persona è quello che ti distrugge, che ti rovina la vita e che di fatto non ti permette di essere felice, diciamo la verità, non ti permette di essere felice. Se vuoi la felicità, se vuoi il benessere, devi imparare a lasciare andare le situazioni, devi imparare a lasciare andare la vita come è giusto che vada, senza mettere dei vincoli, senza mettere delle costrizioni. E questo è veramente il bacio della morte, della seduzione, il canto del cine della seduzione, è sperare di poter ottenere qualche risultato, di poter ottenere qualche risultato dalla tua vita se tu non fai quello di cui, diciamo, senza quella persona. Tu i risultati devi ottenerli per te stessa, non è che devi ottenerli per qualcun altro. Questo devi tenere presente che è veramente importante, veramente fondamentale. Altrimenti, altrimenti, se sei bisognosa, riceverai, riceverai soltanto delle pere in faccia, dei pesci in faccia. Tu devi attirare l'attenzione di un uomo, devi imparare a buttare delle esche, ma poi devi lasciare che sia lui a cercarti, a mettere dei vincoli. E non devi accettare assolutamente dall'inizio condizioni che non siano allineate con i tuoi obiettivi. Questo è un fatto fondamentale. Ma per fare questo devi partire veramente da te stessa. E per partire da te stessa devi dare valore alla tua dignità. Devi tenere presente che la tua dignità è importante. Tu devi essere una persona che si sente degna. Devi essere una persona che si sente... E tu devi essere degna di raggiungere i tuoi obiettivi. La dignità è fondamentale. La dignità è importante. Se non ti senti degna, se non ti senti una persona che merita, una persona che vale, ma figurati se lo pensano gli altri. Gli altri penseranno che sei una... Gli uomini penseranno che sei una persona da tenere in disparte, penseranno che sei una persona da mettere, per così dire, nel dimenticatoio, da tenere lì. E quando ogni tanto serve, se la tirano fuori. E questo io credo che per te debba essere un qualcosa da valutare. Devi valutarlo perché altrimenti ti prendi, ti prenderai, prenderai veramente delle batoste nella tua vita, ma giustamente, verrai trattata a pesce in faccia, ma giustamente, se tu non dai valore alla tua dignità, ma come pensi che possano darlo gli altri? Questo è il primo punto fondamentale. Se tu non dai valore alla tua dignità, gli altri non lo daranno neanche. Ed è un punto fondamentale questo. Allora devi... Ci sono poche regole da seguire, ma queste regole devi seguirle. La prima regola è appunto quella di dar valore a te stessa, di mettere dei vincoli alle persone, di non assolutamente accettare situazioni che non ti piacciono per paura. Quindi devi abbattere le tue paure. Abbatti finalmente, ma le paure le abbatti attraverso il coraggio. La paura che cos'è? È il timore che ti possa capitare chissà che cosa, ma tanto morirai. E questo è certo. Quindi peggio di così, cioè voglio dire, lascerai questo corpo, lascerai questa situazione. Quindi, come dire, morirai comunque. Quello è l'unico appuntamento certo. Quindi che ti frega se ci sarà una persona, se non ci sarà. Tu dai valore alla tua dignità. Se troverai una persona, dovrai trovarti una persona che possa veramente piacerti, una persona che possa veramente darti qualcosa di importante. Se non riesci a fare questo, purtroppo non otterrai nessun risultato. E io non ho altre cose da dirti. Cioè, devi dare energia alla tua vita. La tua vita è la cosa più importante che possa esserci. Quindi se tu non fai questo, se tu non metti sulla bilancia la tua dignità, è inutile che speri di ottenere dei risultati. Perché non otterrai nessun risultato? Quindi dai energia alla tua vita, metti forza, metti coraggio in quello che fai e vedrai che le cose andranno per il verso giusto. E fai atti di coraggio. Se una persona non ti va, mollala, chiudi, mandala a cagare, fallo rapidamente. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Teramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!